Mauro Biagioli, sono dal punto di vista professionale responsabile della formazione manageriale dell'ENAV, l'ETA nazionale assistenza al volo, personalmente sono anche un coach che mi sono fermato in precedenza con l'ICF. Ho citato l'esperienza precedente perché sono qui spinto dalla curiosità di conoscere un metodo che dal punto di vista teorico immaginavo molto diverso da quello ICF. Questa mia sensazione, quello che avevo letto in precedenza risponde al vero e quindi sono molto curioso di imparare una metodologia diversa. Già in queste prime lezioni non solo ho portato a casa qualcosa, direi che ho portato a casa tanta roba. Quando si vivono queste esperienze di così alto livello di eccellenza e che sono esperienze che ti aiutano a diventare una persona più completa. Non dico un'altra persona perché non si tratta di abbandonare quello che uno era, ma integri quello che eri con quello che può diventare e quindi lavori sull'essere. Quindi quello che ti porti a casa è qualcosa che induce un cambiamento prima di tutto dentro di te e poi nelle azioni che metti in essere nell'allenamento, nel quotidiano, nel lavoro. Quindi io lo sto trovando potentissimo. Proprio perché il contesto in cui viviamo è un contesto accelerato, si tende a concentrarsi sui risultati di breve e non sui risultati di medio-lungo periodo che passano attraverso un elemento che è trasversale a tutto, cioè le persone. Quindi un capo azienda, un manager, deve essere per prima cosa un coach dei propri collaboratori. Quindi il saper comunicare in maniera giusta, in maniera empatica, in maniera umana con le persone, perché poi i collaboratori non sono altro che persone, è la vera sfida dei manager. Ed è una cosa difficile, perché mentre chi è un manager, chi si occupa di formazione, impara strumenti, quindi impara le soft skills, oggi queste soft skills sono l'asset hard, l'asset principale del management per gestire l'azienda. Ma questo significa per i manager appropriarsi di una gamba che non sempre hanno. Quindi noi abbiamo un management che è claudicante, perché spesso sono persone con una forte gamba tecnica e quindi con professionalità distintiva e molto profonda, quindi dei tecnici, dei bravi tecnici, degli ottimi tecnici, degli eccellenti tecnici che sono diventati anche capi. Ma per fare il capo devi saper camminare anche su un'altra gamba. Allora ci sono, chiaramente, non è una generalizzazione, però molti, molti dei nostri manager non hanno ben sviluppata, adeguatamente sviluppata questa gamba, che è quella del sapersi relazionare, proprio dal punto di vista umano, quindi comunicativo e percettivo, con le persone con cui lavorano. E senza le persone con cui lavorano non sono da nessuna parte. Le aspettative, direi, a me piace arrivare in una situazione di questo tipo, arrivare quasi senza aspettative. E quindi questo, in un certo qual senso, è anche un modo per dire che le mie aspettative erano molto alte, perché all'arrivare senza aspettative è perché mi aspetto molto. E in questo senso, sicuramente questi primi passi vanno verso quella che sarà, ne sono convinto, una mia soddisfazione finale, massima, che supererà le aspettative che non avevo quando ho iniziato il corso. Grazie.